allora oggi vi dico qual è l'importanza dei papà nei primi mesi ed è andare a buttare i pannolini che sembra una bomba atomica e andare a fare la spesa ognuno le sue se camilla cresce troppo ti vergogni di andare in giro? sì perché tu hai barche altissimi io sembrerò una nonnetta non è molto diretta 1,90 guarda considerando che veste tre mesi già tre o sei mesi non siamo anche un mese non è visto un mese vabbè ma a me Rosalinda Cannavò non sembra una donna bassa affatto mi sembra invece una bellissima ragazza molto proporzionata perfetta in tutto quindi camilla le assomiglierà sicuramente ciao